Padre, ma te che ne pensi di Jonas Brothers? No, secondo me no, dai. Allora, chi sono i Jonas Brothers? I Jonas Brothers sicuramente ve li ho date per Però devo dire che io me li ricordo per il punto proprio più alto della loro carriera. Tutti i giochi... Al batte emulatore! No, ma io v'ho visto già lì, v'ho visto già lì tutti incazzati a vedere. Eheh, o bs, o it studio, vai registrando da un emulatore, quindi voi, poco gaming, siete tutti contro l'illegalità, contro le cose, le droghe. Ora, fate un gioco scaricato da A.com legalmente. Capite assolutamente nulla, vi racconterò un piccolo aneddoto. Allora, tutti comunque abbiamo nel gruppo di amici un amico coglione. Chi lo conosce, sa chi è, cioè fa sempre cose stupide, prende sempre decisioni stupide. C'è quella legge, diciamo, fisica di Lori Clinton, che dice che se non sai chi è, quel coglione molto probabilmente sei tu. Ecco, io non sapevo chi fosse fino ad oggi. E quindi, a proposito di questo, oggi abbiamo una testimonianza che ci racconterà e che ci confermerà che quell'acquisto, purtroppo, è reale. Finché la macchina va, lasciala andare. Oh mio Dio, la donna alla guida! Eh, signora persona, è vero che nel suo gruppo qualcuno, eh, per farle un regalo, cirzone, rollone, ha spiegato soldi e plastica? Gimmi, sei un coglione. Ok, grazie mille della testimonianza. Allora, raga, tutto chiarito? Tutto a posto? Denunce? No? Stasera ci miniamo un caffè insieme? Tutti contenti, felici? Perfetto. Allora, cominciamo con questa bellissima, meravigliosa recensione. Allora, il gioco di Jonas Brothers. Cosa c'è da dire del gioco di Jonas Brothers? Che è una palla. Ma una palla, raga, ma una palla! Forse non ha aiutato il fatto che ho dovuto registrare il gameplay tre volte, perché ho fatto un'ora di gioco, poi è successa una cosa e mi si è corrotto il file. Poi ho fatto un'altra ora di gioco e il computer si è riavviato tranquillamente mentre stavo registrando, corrompendo un'altra volta il file. Quindi, di suo gioco ho le palle piene. Se anche volevo parlarne un minimo male, ora proprio lo distruggerò. Allora, incominciamo a parlare un po' di chi sono... di chi sono questi Jonas Brothers. I Jonas Brothers sono un gruppo che era famoso a metà degli anni 2000, forse fino al 2010 sono stati abbastanza famosi. Ora, non so che cazzo di fine abbiano fatto, a parte Nick che scazza a soli in live, così, ma non so neanche cosa minchia stia facendo. Lui, quindi, questo gioco, e io all'inizio, mentre stavo registrando gameplay, non l'avevo capito, è il gioco della serie TV dei Jonas Brothers. Sappiamo già che praticamente le premesse sono orribili, quindi una realizzazione orrenda è scontata. Ma non fino a questo punto, ragazzi. Non fino a questo punto. Allora, la trama. Tu ti aspetti comunque dal gioco dei Jonas Brothers che la trama sia un minimo relativa alla musica. Ma... il cazzo. Il cazzo. Non c'è un minimo riferimento alla musica in generale per le prime due ore di gioco. Cioè, praticamente è tutto un gossip. È tutto un... Guarda che cazzo fan di Jonas Brothers. Cioè, guarda come puoi controllare le loro giornate. Ma neanche controllare, cioè... Il gioco inizia così. Tu sei... Nick. Nick, sì, mi pare. E ti svegli dalla tua caserma dei pompieri. Vai giù e la tua mamma, che è praticamente la prima... Cioè, tu la vedi e dici... Oh mio Dio, no! Un povero esemplare di modello 3D o lì poligonale! Oh, vieni qui che ti metto un po' di anti-alizing. Guarda, questa è la prima... Ti fa proprio pena. Perché... È orribile. Cioè, ok che già l'emulatore peggiora la grafica di suo. Ok che già il gioco... Cioè, il DS comunque è quello che è a livello di hardware. Ma vi giuro, ho visto la madre. Cioè, è davvero deprimente. La tua mamma dice... Oh, guarda, quell'altri due stanno dormendo. Svegliali. E capisci già a quel punto quale sarà la forma principale di gameplay. Ci sono due fratelli che dormono. Tu, per esempio, trovi una radiolina, ne raccogli la potenza, riempi una barra. Di modo che tu possa andare davanti a uno dei due fratelli Jonas, fare un minigioco per suonare qualcosa, fare casino e svegliarli. Quindi risolvi un enigma. Tu praticamente hai dei... Suoni praticamente facendo la plettrata con lo stilo, mentre premi un dato tasto del D-pad. Ok? E lo devi fare entro un limite di tempo. Quindi, per esempio, entro dieci secondi devi fare la combinazione giù, destra, sinistra, su, mentre dai la plettrata e suoni. Le note che usciranno fuori saranno sempre le solite quattro. E non saranno assolutamente influite da quale tasto del D-pad stai premendo o da come suoni. E saranno sempre, ripeto, le solite quattro. Quindi... Bravo, hai suonato quattro note! Madonna, che bambino, bravo che sei! Che bambino intelligente! C'ha un figliono che è un genio musicale! È un'idea orribile, già di base. Realizzata pure male, perché i controlli non li prende. Non li prende! E tu direi, va bene, questo è un minigioco. No, non è un minigioco, questo è la forma di gameplay della modalità storia. Tu devi fare quello sempre. Devi sentire quelle quattro note per due ore, praticamente, per finire il capitolo 1. E però tu dici, vabbè, dai, ci sarà la performance mode che sarà tipo un gioco musicale. La performance mode viene sbloccata soltanto quando tu finisci il capitolo 1 della storia. Quindi sei lì a fare queste cose, praticamente, soltanto per arrivare alla fine del capitolo 1, o almeno quello che ho fatto io, e per vedere com'è la forma vera e propria di gameplay, cioè com'è il concerto, com'è la performance mode. Ma ci arriveremo presto. Tu sei, praticamente, a casa di questi Jonas Brothers. E la prima cosa che ti chiedono di fare è di svegliare i tuoi fratelli. Svegli i tuoi fratelli e poi, praticamente, tua mamma dice... Oh, ragazzi, però, siete un po' troppo sboroni, eh. Vorrei che vi comportaste un po' più da bimbini normali. E loro, va bene, mamma, ci comporteremo da bimbini normali. Che ieri, tra l'altro, Joe, a quanto dice la sua mamma, è andato, praticamente, a Chicago, da Los Angeles, con il jet, per andarsi a prendere la pizza. Boh, già che sei tanto ricco, fatela spedire da Chicago, non lo so, non capisco. E quindi, si organizzano un po', tipo, non andate in limousine a scuola, non prendete l'elicottero per andare a scuola, non prendete l'elicottero per andare a rimorchiaffie. Tutta sta roba qui, no? E loro dicono, va bene, mamma, va bene, facci andare nel nostro armadietto elettronico che ci seleziona i vestiti e ce li porta da solo. Così possiamo andare a scuola, non in limousine, ma camminando come dei poveri cristiani normali. Ma si scopre che quel cosino automatico, che non so neanche come lo chiamano, non mi ricordo, è stato rotto dal fratello di Jonas... cioè, dal fratello minore di Jonas Brothers. Allora, quel fratellino, ragazzi, è il prototipo del Neckbird. Praticamente è il tizzino elitario che parla strano con il fedora. Mi Jonas... Immagino già la gente che fa i meme con quella foto e mi rovina l'esistenza e la vita. Mi sto rendendo ridicolo in pubblico. Mi sta sul cazzo. Mi sta sul cazzo, ragazzi, non ce la faccio. Cioè, proprio... È... è la cosa più odiosa dell'intero gioco. No? È la seconda cosa più odiosa dell'intero gioco. La prima cosa odiosa è l'umorismo di Kevin Jonas. Su, ridete, stronzi. RIDETE! Quindi, ehm... Ok, questo qui ti spacca la macchina che ti dai vestiti. Quindi loro non è che dicono, vabbè, a sto punto, keep it real, come dicono loro. Andiamo a prenderci i vestiti da soli. No, fanno un mini... Praticamente fanno una serie di minigiochi che sono degli enigmi fatti male, oggettivamente male. E riprendono i vestiti. Poi vanno a scuola. E vanno a scuola e devono evitare le fan che gli arrivano addosso e li stanno per aggredire. Vanno a scuola e tipo trovano Stacy che... La mamma è modellata male. Cioè, sembra tipo una cosa un po' spiaccicata. Stacy, ragazzi, è un blobfish. È un blobfish fuori dall'acqua. Poi dobbiamo andare a prendere dei vestiti di avanzo a casa nostra, portarli dall'amica di Stacy, come... Come cazzo si... No, Stacy, aspetta, come cazzo si... Stella, Stella, giusto. Dall'amica di Stella per donarli. Andiamo lì. E poi praticamente si scopre che questa... Questa amica di Stella è in realtà tipo una fan sfegatata di Jonas Brothers. E ha scritto sul sito fansite di Jonas Brothers che loro si trovano nel suo locale in questo momento. E qui parte il Nobel per l'intelligenza, proprio cioè... Arrivano le orde di fan davanti al loro negozio e a quel punto c'è un altro minigioco per prendere i vestiti, per travestire Jonas Brothers e farli uscire senza essere visti. E qui capisci che tutto il gioco sarà incentrato su questi labirinti a enigmi dove tu devi suonare per risolvere enigmi. Con quel sistemino con le frecce a cazzo. Questa è la unica forma di gameplay. Tranne qualche minigioco rincoglionito e la performance mode. Ma di questo ne parleremo più tardi. I controlli sono completamente touch. Touch i loro. Ridete! Voi immaginatevi dover fare qualsiasi azione in uno schermo da 5 pollici con lo stilo. Clicchi da una parte e tu sai che potrebbe o prenderlo come input di interazione, o prenderlo come input di movimento, oppure confondersi col collider per esempio di un altro oggetto sovrapposto a quello e interagire o muoversi con quello. Voi immaginatevi cliccare con lo stilo in quella scatola in un tempo limite sapendo che il personaggio potrebbe o salirci sopra o interagire con un altro oggetto oppure forse finalmente interagire con quella scatola ed essere pronto a spostarla con un altro input di movimento che potrebbe prendere un altro oggetto, lasciare la scatola e interagire con quello. Oppure anche lì, se il gioco è incomodo, muoversi e proseguire nel livello. Quindi, gioco facile, reso difficile dal quanto questo gioco è fatto male. Meraviglioso, divertentissimo, fantastico. La performance mode. Allora, la performance mode doveva essere, diciamo, la chiave del gioco, il fatto che, oddio, c'è la musica, quindi magari il gioco è anche una merda, però ci sono 40, 30, 20 dai, 20 canzoni. Oh, anche chi vuole provare così, giochino musicale è semplice, no? Eh, ti ci diverti. No, 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 regà, no, no. Allora, ritorniamo a dove eravamo prima. Siamo dentro questo negozio a donare i vestiti, questa qui è chiamata le fan. I travestimenti non hanno funzionato, quindi l'unica cosa che vogliono le fan è loro che suonano. È loro che suonano. Allora, arriva la performance mode. Si vede si apre un palcoscenico, da nulla, vabbè, ovviamente, ma quello non è che c'è da spiegarlo, cioè. E i Jonas Brothers suoneranno Keeping It Real per le fan fuori dal negozio, per farle andare via. Tipo come in Guitar Hero, arrivano le note e tu devi praticamente premere uno dei quattro tasti direzionali per selezionare la nota da poi plettrare con lo stilo. Cioè, non è che devi plettrarla, devi semplicemente toccarla. Poteva essere un'idea carina, no? Il DS è comunque per i music games. Non ce l'hanno fatta, hanno sfottuto anche quello. Hanno fottuto anche quello. Ok, magari sei uno sviluppatore frustrato, vorresti fare il nuovo gioco per un'azienda grossa. Va bene, invece ti danno questo incarico. Ma cosa ti spinge a fare il gioco orrendo apposta? Perché, allora, io pensavo fosse un problema di emulazione. Le note erano tutte fuori sync. E praticamente non è che tu hai la traccia di chitarra che viene suonata se le note sono giuste. No, tu hai la traccia della canzone completa con tutti gli strumenti e tu praticamente suoni sopra la canzone. E non è che suoni note almeno della canzone stessa. Suoni due note a caso, scelte arbitrariamente dal gioco così, senza nessun preavviso, senza nessun... Totalmente fuori tempo rispetto alla canzone. Questo praticamente è un gioco dove ti arrivano le cose e tu le devi fare. Cioè, perché? E poi ho detto, vabbè, come dicevo prima, magari sarà un problema dell'emulazione, no? L'emulatore ha fatto un po' cilecca e mi ha desincato le tracce audio, no? Sono andato su internet a vedere dei gameplay registrati dal DS. E sì. Sì, sono fuori tempo pure quelle. Cioè, proprio il gioco è stato programmato fuori tempo. E tra l'altro Keeping It Real ha un fondo di 30 secondi in cui la canzone finisce ma le note continuano ad arrivare. E no, neanche questo è un errore di emulazione, è stato programmato così il gioco. E tra l'altro, sono andato nel menu della performance mod e si vede tutte le canzoni sbloccate e tutte quelle bloccate. Beh, le tracce nel gioco in totale... Sei tagli, sono sette. Credo non ci sia altro da aggiungere.